Questa è bella, fammi la foto del culo qui in spiaggia così la posto per me stessa sui social E il problema è che l'uomo gli fa la foto al culo, cioè il fidanzato gli fa la foto al culo Ognuno è libero di fare quello che vuole, come le donne, però se fai la foto al culo alla tua fidanzata E tu sai che poi la posterà e la darà in pasto a morte di figa supplicata Qual è il tuo problema nel cervello? Dov'è la tua virilità in quel momento? E lei perde rispetto Perché le postano per loro stesse ragazzi No, non cominciamo a fare... non fate i maschilisti, maschilisti tossici Le foto del culo le postano per loro stesse Poi non stare a vedere che gli arrivano 8000 like, 74000 DM No, lo fanno per loro stesse, come noi guardiamo i porno per la trama